Sì, c'è già fatto il prodotto? Ha fatto il primo piano, adesso... Ah, buono. Ha fatto il primo piano. Si, ti ha fatto il prodotto? C'hai già fatto il prodotto? Non ho fatto... Poi ci ha fatto il prodotto? Non è buono il prodotto? Ah, è il prodotto blu... Ah, è il prodotto blu... Che lo facciamo? No, non è buono il prodotto blu... Che lo prodotto blu... L'ortenzio... Stai vivendo...